Cominciamo dall'ariete. Importanti faccende legate all'attività dovranno andare d'accordo con le esigenze del rapporto di coppia. Non sarà facile creare un buon incastro tra la vita professionale e privata, ma voi ci riuscirete. Toro, avete un po' la testa fra le nuvole, ma per fortuna l'arrivo del weekend maschererà bene le vostre probabili defiance. Non avrete problemi. Se non sapete una cosa, non fate finta di conoscerla. Gemelli, una gita fuori porta è quello che ci vuole per staccare la spina dalla routine quotidiana e magari per visitare qualche posto nuovo e interessante. Avete bisogno di nutrire la vostra fantasia e la lettura anche di un buon libro potrebbe aiutarvi. Cancro, se ultimamente avete tralasciato i compiti più noiosi, ora dovrete correre ai ripari. Constaterete che poco per volta è meglio che tutto in una volta. Tornate con i piedi per terra. Leone, le stelle vengono in vostro soccorso. Supererete ogni possibile ostacolo. Se una questione in stallo vi sta complicando l'esistenza da un po', ora finalmente tutto si sblocca. Vergine, per scacciare qualche pensiero non troppo positivo, pensate a tutto ciò che di bello c'è nella vostra vita. Subito vi renderete conto che siete molto fortunati. Cambiare non è sbagliato, anzi, ma forse non è il momento. Bilancia, il lavoro tedioso può attendere. Soltanto sano divertimento e hobby gratificanti. Stare insieme agli altri sarà un'autentica fonte di allegria. Molto bene il rapporto di coppia. Scorpione, il nervosismo si unisce alla vostra volubilità, creando un mix a dir poco esplosivo. Meglio correre ai ripari e non andare in cerca di complicazioni. Se questo sabato non lavorate, dedicate del tempo a voi stessi. Sagittario, i progetti più importanti decollano anche grazie alla possibilità che avete di moltiplicare i vostri talenti. Non avete problemi nel dimostrare agli altri che avete ragione, ecco perché vi seguiranno senza sforzo. Capricorno, avete escluso una persona senza riflettere troppo, ma ora dovrete rimediare dato che siete a corto di collaboratori. Vi tocca fare un passo indietro. Meglio tardi che mai. Acquario, potrebbe essere l'occasione giusta per riflettere su cosa volete veramente, abbandonando le strade che non portano a nulla. Uno sforzo fisico eccessivo potrebbe rivelarsi dannoso. Pesci, aver sprecato una bella opportunità non è piacevole, ma adesso non fatene un dramma. Cercatene altre, magari anche di migliori, così avrete di che consolarvi. Non scoraggiatevi poi di fronte alle ritrosie di qualcuno.